Pieve Torina, quasi sette anni dalla terremoto, l'amministrazione non si ferma nell'iniziativa per mantenere il Paese Unito ed evitare lo spopolamento. La ricostruzione ha ripreso il passo a fare il punto della situazione e il sindaco Alessandro Gentilucci con noi dovrebbe essere in diretta con la nostra appunto. La vedo Daniela Gurini. Buongiorno Daniela, naturalmente buongiorno anche al sindaco. Buongiorno a te, buongiorno a tutti, in compagnia del sindaco Alessandro Gentilucci, sindaco di Pieve Torina, uno dei comuni tra i più colpiti dal terremoto. Ogni tanto ci incontriamo e raccontiamo qual è la situazione, proprio oggi in questo periodo di ponte, comunque volevamo fare il punto della situazione. La ricostruzione per Pieve Torina è predisposta già dal 2018 perché molte case sono solo in attesa, ma questa ricostruzione che sta prendendo una nuova velocità, sta ripartendo, sindaco? Stiamo cercando di far ripartire questo percorso di ricostruzione. Quello che manca è la capacità di riuscire ad assorbire i super bonus che sono fondamentali per i cittadini al fine di evitare quegli accolli che sono diventati indispensabili a seguito dell'aumento dei costi delle materie prime. Abbiamo le abitazioni, in particolar modo nei nostri centri storici, già demolite nel 2018, quindi l'opportunità di ricostruzione è reale. Speriamo che il commissario straordinario Guido Castelli riesca ad imprimere questo nuovo slancio a una ricostruzione e confidiamo in lui affinché riesca a sbloccare questa pratica del super bonus che di fatto sostanzia l'impossibilità di ricostruzione. Noto da parte dei nostri concittadini un approccio positivo nel vedere che alcune situazioni si sono sbloccate e nel vedere che ci sono le opportunità ormai reali di riuscire a ripartire con le gruppe. Ecco, fra l'altro nell'incontro che c'è stato poco più di un mese fa con tutti i sindaci del comprensorio terremotato e con Castelli a Camerino, insomma qualcosa di positivo ne è uscito fuori. Fra l'altro non sono state mosse nessun tipo di critica? Lì parlavamo di ricostruzione pubblica, di necessità per i comuni di riuscire a ridare quei servizi essenziali che il sisma ci aveva portato via, abbiamo parlato di fognature, abbiamo parlato di acquedotti, abbiamo parlato in primo luogo di cimiteri e di quelli che sono i servizi indispensabili. In quel programma, in quel piano siamo riusciti ad inserire un po' tutto il percorso che di fatto avevamo richiesto per cui merito del commissario Guido o dell'Amico che è riuscito a creare sintesi, sinergie, ma soprattutto a trovare quei finanziamenti indispensabili poi per i cittadini per riavere quei servizi indispensabili per vivere qui. Ecco, prima di ridarvi la linea allo studio farei una battuta, questo ci troviamo a Cavallo del Ponte, il Ponte del 25 Aprile, come il prossimo, quello del primo maggio, dove città come queste attendono anche il passaggio di turisti perché per l'economia locale è importante. Voi avete anche fatto una serie di iniziative. Abbiamo inaugurato qualche tempo fa la pista ciclopedonale lungo il torrente Sant'Angelo, ormai il famoso sentiero delle acque. Quest'anno lo stiamo arricchendo con un percorso Kneipp che sarebbe un percorso benessere dove i cittadini possono tranquillamente passeggiare all'interno dell'acqua fresca del fiume deviata appositamente su delle casse d'acqua. Ecco, e poi domani, questo 25 Aprile, abbiamo lanciato una proposta grazie ad un giovane del nostro territorio che anche se si è trasferito ancora fuori riusciamo a garantire quel necessario contatto con la comunità di origine e lanciamo il 25 Aprile tutto l'anno una manifestazione dove parteciperà tutto il paese e in particolar modo la camminata sarà quella del sentiero delle acque. Grazie al Sindaco Alessandro Gentilucci che ci accoglie sempre con grande piacere. Vi racconteremo ancora altro da questo territorio. Per il momento la linea torna a voi della regia. Benissimo, grazie al Sindaco Gentilucci e alla nostra Daniela Gurini.